buongiorno continuo oggi la lettura del capitolo 9 di luca i versetti dalla 57 62 gesù in cammino verso gerusalemme verso la sua pasqua e allora le sue parole si fanno esigenti chi vuole seguirlo deve entrare nella stessa logica che gli sta vivendo una logica di radicalità una logica di libertà totale gesù ci propone tre brevissimi dialoghi con persone che gli invita o che vogliono seguirlo e la scelta del discepolato essere discepoli di gesù camminare lungo il suo stesso sentiero calpestare le sue impronte è esigente nel primo caso gesù sembra dire che non c'è bisogno di una casa di un punto fermo per camminare con lui il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo è un pellegrino costante nel secondo caso invita addirittura un uomo a non andare a seppellire il proprio padre perché i morti devono seppellire i propri morti nel terzo caso gesù invita a non perdere tempo nel salutare la propria famiglia prima di andare ad annunciare il regno è strano tutto questo visto dalla nostra ottica perché in fondo tutti abbiamo bisogno di una casa di un luogo fisico dove riunirci anche per pregare per fare insieme l'esperienza di una comunità che è fedele e prega tutti sappiamo poi che seppellire i morti è un'opera di misericordia e infine c'è un comandamento che ci invita a onorare il padre e la madre e allora che cosa ci vuole dire gesù a noi che desideriamo essere suoi discepoli gesù ci rimanda ad un oltre un oltre che è quindi più grande anche delle leggi delle regole di tutto quello che può essere vissuto come una catena gesù spinge ad avere la onestà di guardare le nostre intenzioni di lavorare su ciò che muove davvero il nostro cuore una casa un'opera buona una famiglia potrebbero rischiare di diventare dei legacci anziché dei legami che liberano gesù ci pone in una prospettiva che va oltre la morte perché quella è la verità questo regno di dio che siamo invitati ad annunciare è un regno che non ha fine su questa terra ma che continua laddove la nostra casa sarà la casa del cielo laddove i morti ci accorgeremo che in realtà sono vivi più di noi laddove la nostra famiglia di sangue non ci basta perché saremo famiglia per sempre di tutti e di tutte gesù ci apre allora a un orizzonte più grande e questa la vera libertà che è faticosa ma che anche estremamente entusiasmante il fascino della libertà tocca il cuore del cristiano vogliamo provare in questo giorno a vivere un passetto in più di libertà sciogliendoci da qualche legaccio che ci incatena buona giornata